Benvenuti, sono lo chef di Ristorante Scarpatella. La ricetta che vi propongo oggi è uno spaghetto con ragù di baccalà e no del moito. Gli ingredienti sono gli spaghetti, l'aglio, il pepe, la scorza di lime, della menta fritata e della menta in foglie, il lime e una datolata di baccalà leggermente marinato con gli stessi ingredienti che andremo ad usare per finire il piatto. In aggiunta andremo a sfumare il baccalà con il rum bianco. Passiamo ora alla realizzazione del piatto. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Buon appetito.